L'ultimo dei tre appuntamenti di questa escursione che si porta lungo le strade dei sentieri della via di Maraspina fino a Varzi e poi torneremo lungo l'ex per Roma. L'ultimo dei tre appuntamenti di questa escursione che si porta lungo le strade dei sentieri della di questa escursione che si porta lungo le strade dei sentieri della di questa escursione che si porta lungo le strade dei sentieri della di questa escursione che si porta lungo le strade dei sentieri della la 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 Grazie a tutti.